Patrimonio Arte consiglia Claude Monet The Immersive Experience. Pronti per un'esperienza immersiva indimenticabile? I capolavori di Claude Monet si animano, letteralmente, sotto i piedi e intorno ai visitatori a 360 gradi. Per 35 minuti ripetuti in loop, la sala immersiva della mostra avvolge il visitatore nel mondo dell'artista. Oltre 300 dipinti di Claude Monet diventano proiezioni animate, creative e sorprendenti. I sensi di chi guarda si risvegliano attraverso queste pennellate virtuali accompagnate dalla colonna sonora originale del compositore belga Michelino Bisceglia. Da sapere, la proiezione dura 35 minuti e si ripete in loop. Oltre alla sala immersa, l'esperienza include anche altre parti, tra cui un assaggio dell'atelier di Giverny, che altro non è che la bottega di Monet, con alcune riproduzioni delle opere dell'artista, ed un'aula didattica con spiegazioni della tecnica, delle influenze e della vita dell'impressionista. Alla fine della mostra di Monet, un'esperienza fu a realtà virtuale unica appena ai visitatori e l'occasione per scivolare nei panni di Claude Monet. Grazie a occhiali speciali, questa esperienza di 10 minuti porta chi guarda nell'atelier a Giverny, ma anche a Londra, in Olanda, in Norvegia e ovviamente nelle opere dell'artista. Dopo Barcellona e Bruxelles, la coloratissima mostra immersiva, adatta a tutta la famiglia, arricchisce la monumentale chiesa di San Potito nel cuore del centro storico di Napoli, un'esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l'esperienza unica. A scegliere Napoli come location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre immersive.